Sono felice di aver letto Passeggeri solitari di Stefano Lorefice, edito dalle edizioni La Groupe, che fondamentalmente nel suo comporre il testo con prosa poetica, pensée, riflessioni e poesia, riporta alla memoria quelle che sono le nuance filosofiche del post-nichilismo occidentale. Faccio riferimento a Nietzsche, a Stirner e a Choran, Emil Choran, che sono per me degli autori immensi. E in più ci fa comprendere come talvolta nel nostro attraversare i giorni, le notti, le vie, le strade, le montagne, le pianure, le colline, nell'incontro con l'altro, che può diventare ate e aratroce, ci troviamo spesso a essere fuori contesto, essere fuori testo. Ma comunque con una spinta interiore fortissima da essere rivoluzionari sempre e comunque.